Come le cose più interessanti della vita, anche la collaborazione tra Human Foundation e Altis è sorta da un incontro fortuito. Un amico che ha messo in contatto noi da tempo impegnati sui temi dell'imprenditorialità sociale con Human Foundation impegnata a sviluppare questo stesso argomento nell'ambito del nostro paese. Quindi una comunanza di interessi ma ancora più direi una comunanza di passione perché la causa dell'impresa sociale sia alimentata e sia sviluppata appunto nel nostro contesto. Da qua l'idea di far partire un master, un progetto di formazione. Perché partire con la formazione? Perché certamente il terzo settore nel nostro paese ha una grande tradizione e ha moltissimo da insegnare, ha moltissimo da insegnare a tutto il mondo. Ma certamente in questi tempi è necessario un livello di efficacia, un livello di efficienza, una cura per esempio alle risorse finanziarie che in passato non erano altrettanto importanti. In passato c'erano delle condizioni che rendevano più facile la prosperità di queste imprese senza una gestione particolarmente rigorosa. Di qui l'idea di mettere insieme la passione del terzo settore con la passione nostra ad aiutare questo terzo settore. E allora abbiamo pensato ad un progetto molto specifico, molto concreto, molto orientato al miglioramento concreto delle imprese che già sono impegnate nell'ambito del terzo settore. Di qui l'idea di coinvolgere degli operatori che già lavorano all'interno di imprese sociali e che hanno la volontà di mettere in discussione loro stessi e alcuni elementi della loro impresa per migliorare dal punto di vista della qualità della gestione. Altis è un'alta scuola della Università Cattolica che ha nel suo DNA questa idea del valore sociale dell'impresa. Altis sta per alta scuola, impresa e società perché fin dall'inizio abbiamo voluto evidenziare il valore sociale, il valore come motore di sviluppo dell'impresa. Per cui questa è una caratteristica che a nostro giudizio deve accomunare sia le imprese for profit sia le imprese non profit e da tempo avevamo il desiderio di formulare una proposta per le imprese non profit e con questa alleanza di Muse, questo nostro desiderio, questa nostra speranza ha trovato un compimento.